Ok, allora, iniziamo questo esercizio qua, verifica i requisiti di laurea, ripassiamo velocemente cosa ci chiede, ci dice che abbiamo un file esami.log nel quale vengono salvati tutti gli esami sostenuti in un'ipotetica università, dove il primo campo, la prima colonna di questo file è il numero di matricola, il secondo è una data, il terzo è un codice che rappresenta il corso dell'insegnamento e il quarto è il voto ottenuto. La matricola è sempre in questo formato, S più 6 cifre, la data di questo formato, eccetera, ma questi dettagli li andiamo poi a ripescare quando ci servono. Il campo voto può essere un numero tra 18 e 30, oppure la sigla 30L che rappresenta da 30 Lode, oppure la lettera R che indica insufficiente o la lettera A che indica assente, quindi non è solamente un numero, può essere un numero o una stringa o un misto. Dato che un esame può essere sostenuto più volte è possibile che un studente possa comparire in più righe con lo stesso codice di esame, tipicamente se da un esame non lo passi, oppure lo rifiuti, oppure sei assente. In tal caso l'ultimo voto è quello da considerare per la media dei voti di un studente, l'ultimo voto. Attenzione che questa parolina ultimo va combinata con i dati che compaiono nel file senza un ordine particolare. Quindi l'ultimo voto di uno studente per un corso non è detto che sia quello che compare più avanti, cioè non c'è garanzia che il file con gli esami sia ordinato per data crescente. Quindi questo ci complicherà un pochino la vita. Dopodiché cosa devo fare con questi dati? Ho un secondo file che rappresenta essenzialmente gli esami sostenuti, cioè gli esami esistenti e per ciascuno mi dà il numero di crediti, di CFU, e poi c'è un terzo campo, 1-0, che rappresenta se questo esame sia obbligatorio oppure no. Quindi questo qua è la guida dello studente, c'è l'elenco di tutti i corsi, il codice, i crediti e se è obbligatorio oppure no. Cosa devo fare di tutto questo? Allora devo elaborare il file contenente degli esami svolti e stampare la lista di matricole degli studenti che possono essere ammessi nell'esame finale di laurea. Quindi tutti gli studenti che trovo nel file esami.log devo dirti guarda tu lui può sostenere l'esame, l'altro non può sostenere. E sulla base di quale criterio? Dice che per essere ammesso devi aver accumulato almeno 30 crediti totali, quindi devi avere almeno 30 crediti di esami superati, di cui almeno 10 di esami obbligatori. Ok? Quindi che ne so, la matricola 1 ha superato, non ha superato qua l'esame IN1, quindi questo non ci interessa. Qui ha superato l'esame AM1 e andiamo a vedere che AM1 era 10 crediti, quindi 10. Poi qua superato l'esame IN1 è 10 crediti, quindi siamo 20 e entrambi sono obbligatori, quindi 20 obbligatori. Poi abbiamo quest'altro SCZ che è un esame da 15 crediti non obbligatori. Quindi questo studente ha preso in totale 20 crediti obbligatori e 15 non obbligatori. È laureabile o no? Allora la regola mi dice che devo averne 30 totali, sì li ho perché ne ho 35, di cui almeno 10 obbligatori, sì li ho perché ne ho 20. Ok? E quindi dirò lui è laureabile. E così via. Nella lista devo stampare per ciascuno studente i CFU ottenuti indicando quegli obbligatori, che è sotto qua, dice esempio questo studente, appunto aveva 35 CFU totale, di cui 20 obbligatori e gli altri ovviamente 15 non obbligatori. E poi devo stampare la media pesata per il CFU. La media pesata dei voti che ha preso. Ai fini delle media 30 lode conta come 33, lui dice. E quindi alla fine mi stampa anche che non solo è ammissibile all'esame, ma ha questa media. Quest'altro studente aveva 26 crediti in totale, 20 obbligatori, ma non avendone in totale 30, solo 26, non è ammissibile alla laurea. Qui c'è scritto no laurea, nonostante avesse 30 di media. Qui c'è una leggera ambiguità secondo me nel testo, perché il testo qua dice stampare la lista di matricoli degli studenti che possono essere ammessi all'esame finale di laurea. Io quando leggo questa frase capisco che gli altri non li devono neanche stampare. Invece nell'esempio sotto quello che non è laureabile lo stampa lo stesso e dice non è laureabile. Quindi c'è un po' l'incongruenza secondo me tra la frasetta del testo e l'esempio sotto. Però tanto alla fine quei dati lì dobbiamo calcolarli, non ci cambia molto stamparli oppure meno. Ok? Allora, noi abbiamo già giocato adesso con l'esempio della matricola 1 per vedere quale tipo di operazione dobbiamo fare. Preso una matricola andiamo a spulciare uno per uno i suoi esami, per ciascun esame andiamo a contare quanti crediti ha e ci teniamo da parte quanti crediti ha preso, se era obbligatorio e il voto che ha preso eventualmente, che ci serviranno poi per fare le medie e per fare i confronti. Ok? Le volte in cui lo studente non ha superato l'esame come questa possiamo tranquillamente ignorarle. L'unica complicazione di questo è quel criterio che dice che un esame può essere sostenuto più volte. Adesso a me pare che in questo file non compaia questa situazione, vero? Perché lo stesso studente, qui sono tutti, per un determinato studente i codici degli esami sono diversi, però visto che c'è scritto nel testo ne dovremmo tener conto. Allora, cosa succede? Facciamo finta di modificarlo, no? Che questo studente qui a un certo punto più avanti abbia di nuovo lo stesso esame, che non so, aveva preso 20 e adesso ho preso 28, con un voto diverso in una data che non è più il 30 gennaio ma è il 15 febbraio. Se fosse, se capitasse questo caso vuol dire che io devo ignorare, dovrei ignorare questa riga e invece tenere per buona quest'altra. Perché? Perché a parità di studente, studente 1, parità di corso SCZ, questo ha una data più recente. Ok? Quindi vuol dire che in certo senso io ho bisogno di sapere, dato a questo file di dati, per ogni coppia studente esame, qual è il voto che ha preso, se l'ha preso. Ok? Quindi all'inizio mi dirò, guarda, studente 1, esame in 1, niente, questa riga la ignoro. Studente 1, esame M1, voto 30. Studente 1, esame IN1, voto 30. Studente 1, esame SCZ, voto 20 e mi salvo questa informazione, quando arrivo sotto dico, studente 1, esame SCZ, mannaggia c'è già. Allora devo ottenere quello vecchio o quello nuovo? Devo andare a confrontare le date. Allora, un modo per poterlo fare facilmente potrebbe essere quello di prendere questi dati come una lista e ordinarla in ordine cronologico. Se io li ordino per data, allora sono sicuro che tutti quelli che arrivano dopo devono sovrascrivere quelli che c'erano prima. Giusto? Quindi se io l'ordino per data, io li leggo e se ritrovo un'altra volta lo stesso studente, vabbè, vuol dire che andrò a modificare i dati che avevo prima. Quindi, quello che sto immaginando, proviamo a disegnarlo, disegnarlo qua, vuol dire che noi stiamo registrando il log dei dati, l'elenco dei voti, alla fine con una cosa che mi dice studente, dato uno studente, dato un codice esame, mi deve dire il voto e forse la data. Non so se mi serve la data. Questo si può costruire, questo è il punto d'arrivo di questo primo ragionamento. Si può costruire, ad esempio, come un dizionario, no? In cui la chiave è lo studente, F0001, non fate mettere tutti i zeri perché non ci stanno, l'esame AB1, questa è la chiave e il valore è 30. Poi ho un altro elemento che è un altro studente, S0002 magari, l'esame AB1, lo stesso esame, ha preso 20. Poi, di nuovo, lo studente S0001, per un altro esame, ZZ2, ha preso 25. E così via. Questo è il tipo di informazione che possiamo costruire, così abbiamo i voti puliti. Poi dovremmo fare le medie, eccetera, eccetera. Questo arriva da dove? Arriva dalla lettura del file, che deve essere ordinato per data, abbiamo deciso. Però per ordinarlo per data devo avere una lista, perché per parlare di ordinamenti devo ragionare in termini di liste. Quindi io dovrò prima avere una lista in cui ci sono i dati piatti, così come ci sono nel file, quindi potrebbe essere una lista di liste o una lista di dizionari, come preferite. Per ragione di spazio faccio una lista di liste, ma non cambia nulla. S001, poi avrò la data, che era ad esempio 0101-22. 0101, ha smesso di scrivere, perché mi vuole bene. E non si è neanche ricordato quello di prima. bene. Come è che si fa? Adesso apri. dicevamo, avevamo lo studente S001, con la certa data 0101-01-2022, che per un certo esame AB1 ha preso il voto 30, ad esempio. E così via. Avrò tutti gli studenti, una riga dopo l'altra, leggo il file. Qui non sto a entrare in dettagli, perché in realtà è esattamente la lettura che facciamo normalmente in un file diviso in campo. Quindi abbiamo una lista, e questa lista va ordinata sulla base del campo data. Però questo campo qui non è che posso ordinarla come stringa, perché o giorno, mese, anno me lo ordinerebbe sulla base del giorno. Quindi prima tutto il 1, 1 gennaio, 1 febbraio, 1 marzo, 1 aprile, 1 maggio, poi dopo il 2 gennaio torna indietro, no? Allora cosa conviene fare solo per lo scopo di ordinamento? Beh, conviene secondo me aggiungere un altro campo qua, che sia la data nell'ordine giusto. Cioè anno, mese, giorno, che è l'unico ordine che ha senso. Quindi io questa cosa qua potrei costruire 2.022 0.1 0.1 e lo aggiungo come campo aggiuntivo. E questo è un campo che è comodissimo per fare sort, perché fare un ordinamento di tipo stringa su quel campo lì mi dà l'ordine cronologico. Perché ovviamente gli ordinamenti, noi mettiamo davanti l'anno, poi il mese, poi il giorno, l'ordinamento parte da cifre più significative, va verso quelle meno significative solo se le prime sono uguali. Quindi prendete pure l'abitudine, tutte le volte che dovete scrivere una data, l'unico formato sano è anno, mese, giorno. Scritto di fila o scritto con dei trattini, no? 2022, 0.1, 0.1, se volete renderlo forse un pelino più leggibile. Ma è l'unico formato comodo per poterci lavorare. Ok? Allora, ci siamo persi l'altro disegno, ma possiamo andare avanti, cominciare a costruire questo, ordinarlo e poi vediamo come costruire, diciamo così, eliminare i duplicati. La lettura di questo file qua effettivamente è la cosa un pochino più, forse più complicata di questo esercizio, per quello, diciamo, mi focalizzo su questa. Poi il calcolo delle medie, il calcolo delle somme, lo facciamo, ma è più facile. Allora, facciamo un file soluzione, ovviamente siamo ottimisti, lo chiamiamo soluzione, con la e.py. E quindi possiamo innanzitutto leggere i voti, leggere gli esami, leggendo il file, open, nome file, lettura, encoding uguale utf8, esf. Da questo file leggo una per una le varie righe, quindi, e le metto in una lista esami, quindi for riga in F, i campi di questa riga non sono altro che riga, punto R-strip, punto R-strip, del barrenne finale, punto split, sul separatore che è semplicemente una virgola. E quindi questa lista campi che mi esce fuori dallo split sarà una lista di 0, 1, 2, 3, 4 elementi da 0 a 3. Adesso, se leggessi il file brutalmente senza farci nessun aggiornamento, farei un esami, punto append di Campino. E così abbiamo la lista totale. Però già che ci sono, facciamo un minimo di lavoro che ci renda più comodo il passaggio successivo, la prima cosa che io farei è buttare via gli assenti e i respinti, tanto non ci servono. Quindi quando il voto è A oppure R, ignoro. non mi serve. Quindi questo append lo faccio solo se il voto che sarebbe campi di 3, scusate, 0, 1, 2, 3. Se campi di 3 non è assente e campi di 3 non è respinto, allora lo aggiungo, altrimenti non lo aggiungo. E già mi sono tolto un pezzo di complessità. Poi l'altra cosa che posso fare mentre sto leggendo è mettere a posto il voto. Il voto è da 18 a 30 elode, allora posso benissimo prenderlo come numero, vado solo ad andare a intercettare il 30 elode. Quindi a questo punto se io vado prima di questo, dopo, sono sicuro che non è una A, è una R. Allora vado a controllare se campi di, dov'è il voto? in campi di 0, 1, 2, 3. No, campi di 3 era, sempre campi di 3 il voto, sì. Sempre campi di 3. Quindi se campi di 3 fosse un 30 elode, allora lo posso sostituire, uguale, uguale, lo posso sostituire con 33. Altrimenti vuol dire che sarà un numero tra 0 e 30, tra 18 e 30 e la cosa che posso fare per comodità mia è trasformarlo già in intero. Devo poi farci le somme, le medie, tanto vale metterle in intero. Quindi prima dico se hai una A o una R ti ignoro, se non sei una A o una R sei un voto, se sei 30 l salvo 33, se sei un'altra cosa prendo te stesso ma ti converte in intero. Dopodiché, sono a posto, ho letto tutto, avevamo detto io però vorrei ordinarli per data crescente. Non abbiamo attualmente un campo che possa essere usato per ordinare secondo la data crescente, perché la data che c'è è scritta in modo storto. Allora, quello che possiamo fare è costruirci una data da ordinare, c'è scritta anno, mese, giorno e ordinare su questo campo qua. Quindi, diciamo così, una data scritta anno, mese, giorno, IMD, come la posso ottenere? Beh, posso prendere, dando per scontato, come mi dice il testo, che i file siano corretti, posso andare a prendere questa cosa qua, estrarre come l'anno che sono gli ultimi caratteri, il mese che sono quei intermedi e i giorni che sono i primi. E poi concatenarli a rovescio, quindi fare una roba del tipo, l'anno sarà, fatemelo salvare in una variabile così non diventiamo pazzi, data, questo è giorno, mese, anno e campi di due, giusto? No, di uno. Allora, la data in formato anno, mese, giorno, sarà data, giorno, mese, anno, degli ultimi quattro. Allora, questa qui quanti caratteri ha? Due, quattro, sei, sette, otto, che sono le sbarre. Quindi gli ultimi quattro caratteri sono quelli 0, 1, 2, 3, 4, 5, da 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, da 6, 7, 8, 9, da 6 a 10. Quindi da 6 a 10, al fine in fondo. Questo è l'anno. Poi il mese lo prendo, 0, 1, 2, 3, no, 4 e 5, quindi da 4 a 6, i caratteri 4 e 5, e poi data il giorno, i primi due, 0, 2. E quindi posso sostituire a campi di uno la data del nuovo formato. E poi appendo questa cosa. Quindi ho trasformato i dati in un formato più comodo. Quando ho finito di leggere tutto, a questo punto posso ordinarlo. Esami.sort sulla base della nuova colonna 1 che a questo punto avrà le date scritte in un modo più comodo. Quindi key uguale operator.itemgetter di 1, sulla colonna, sulla base della colonna 1. Operetto lo devo importare. Ritare un esami. Questa è la prima parte di lettura. Leggo la lista. Vediamo cosa salta fuori, proviamo a chiamare questa funzione. Proviamo a fare un run, vediamo se non ci sono errori. Ecco questa è la lista. Ho preso male qualche cosa. Allora, l'anno è giusto. Allora, 0, 1, va bene, poi c'è il 2, e 3, 5 qua, devo scrivere, non 4, 6, giusto? Perché 0, 1, 2, poi c'è 3, 4, si, 3, 5, per caratteri sbagliati. Cosa abbiamo? Ok, questo qua. 2022, 0, 1, 0, 1, 2022, 0, 1, 2021, 2022, 0, 1, 20, 2022, 0, 1, 30, eccetera. Quello che avevamo messo come febbraio non me l'ha ancora messo perché questo file non l'ho salvato. Se provo a fare salva e rifaccio run, dovrebbe comparirmi anche quello del 15 febbraio e giusto per controllare che tutto funzioni, questo qua il 15 febbraio lo posso mettere anche per primo e dovrebbe sempre stamparmelo per ultimo. Ok, quindi siamo riusciti a leggere già con un primo filtro i dati. Poi un secondo filtro che dovremmo applicare è che se per caro c'è una coppia studente-esame uguale, quella vecchia la devo dimenticare. La dovrei cancellare, la dovrei ignorare, la dovrei eliminare. Questo possiamo lasciarlo da fare eventualmente per dopo, solo perché in questo esercizio qua adesso non c'era il testo e quindi... Però l'idea è se io ho, adesso li ho ordinati, se io ho, questi dovrebbero essere studi esami buoni, ma se per caso ne trovo uno che ha lo stesso studente, lo stesso esame di un altro che ho visto prima, quello precedente va cancellato o va ignorato. Ok? Questo come posso farlo ad esempio? Potrei fare un doppio ciclo in cui vado a prendere tutte le coppie di esami e vado a vedere se ce ne sono due che hanno questi dati in comune e a questo punto uno dei due verrà cancellato. Sto tentennando un po', sto prendendo tempo perché cancellare un elemento di una lista su cui sto ciclando sopra, come sappiamo è sempre un po' un problema. Quindi vediamo se lo devo... Io comincio a mettermi un commento, poi vediamo se andiamo a risolverlo qua oppure lo risolviamo in una funzione successiva quando facciamo poi le medie, magari ci va bene quando facciamo le medie, no? Tenendo conto di questo. Quindi attenzione, ci possono essere coppie studente corso duplicate. O le rimuovo qui, oppure ne devo tenere conto, ne devo tenere conto dopo, nel calcolo di credit. Il calcolo di credit non l'abbiamo ancora fatto, quindi aspettiamo un attimo. Ok? Vediamo, magari ci viene comodo là, oppure se no sappiamo che qui dovremo cancellare alcune righe. Ok. Adesso cosa ci chiede? Ci chiede di prendere tutti gli studenti, per ciascuno studente prendere gli esami e fare la somma dei crediti, cosa devo calcolare per ogni studente? Devo calcolare tre numeri. Quanti crediti obbligatori ha, quanti crediti non obbligatori ha e qual è la somma dei suoi voti. Allora per sapere se un esame è obbligatorio o no e sapere quanti crediti ha, mi serve l'altro file. L'altro file è facile da leggere, questo cfu.dati, perché questo punto è veramente un dizionario che ha come chiave il codice del corso e come valori questa coppia di numerini. Quindi def leggi dati, dati cfu chiamiamolo. Cosa faccio? with open nome file lettura encoding. Mi costruisco, abbiamo detto, un dizionario che chiamiamo poi il cfu, il file si chiama cfu, quindi chiamiamo cfu, qui ci vuole un uguale, for riga in file, i campi riga in f, i campi saranno riga.rstrip del barra n, punto split, dove c'è la virgola, giusto anche qua c'è una virgola, no? Sì? Ok? Allora, un singolo corso avrà come chiave campi di zero, cioè il suo codice, e come valore campi di uno, campi di due, portati l'intero, sono numeri interi questo. Quindi potrei semplicemente scrivere cfu uguale, cfu scusate, di campi di zero, uguale una coppia di valori, metto una tupla, tanto non lo devo modificare, che sono l'int di campi di uno e l'int di campi di due. Basta. Quindi se voglio posso vedere anche cosa salta fuori leggendo il file cfu.dati. mi mancano un paio di parentesi, ma le aggiungo. Ok? Quindi ho costruito un dizionario che ha come chiave il codice del corso e come valore la coppia crediti obbligatorio, crediti obbligatorio, credito obbligatorio, credito obbligatorio, eccetera, per tutti i codici. Ok. Adesso prendiamo uno studente per volta e facciamo i conti. Immaginiamo di avere una funzione che, dato uno studente, calcola, dato uno studente, ovviamente dato gli esami e il cfu, io posso pensare di farmi una funzione che alla fine faccia un return per questo studente qua, dei crediti obbligatori, crediti, cfu obbligatori, cfu non obbligatori e media voti. questa funzione una volta che la scrivo, poi la chiamano tante volte una per c'è uno studente e stampano i dati relativi a quello studente. Quindi avendo queste due strutture dati che ho appena creato, questa funzione la posso scrivere. Come? Vabbè, allora queste cose qua le mettiamo a zero, queste fatemene fare un copia e incolla da figro proprio, uguale a zero, cfu non obbligatori voti uguale a zero, media voti, somma voti uguale a zero, perché per fare la media dobbiamo prima fare la somma, no? Somma voti pesati, cioè il peso di un voto è uguale al numero di crediti. Allora, lo studente lo conosco già, vado a vedere nella tabella degli esami quali sono i suoi esami. Quindi for esame in esami, if esame di zero uguale a studente è lui, giusto? Esami di zero è la matricola, il primo dato. Studente è il parametro che ho ricevuto, vado a confrontare la prima colonna di questa tabella con la matricola dello studente. Se è lui, devo tener conto dei crediti che ha preso. Quindi vado a vedere qual è l'esame che ha sostenuto e questo esame avrà un certo numero di cfu e sarà o non sarà obbligatorio. Queste due informazioni, se ha dei cfu e se è obbligatorio, li posso andare a prendere dal dizionario dei cfu. Di quale cfu? Di quale corso? Quello di cui codice è esami nella terza colonna, 0, 1, 2. Cfu esame. Quindi esami di due è cosa? Il codice. Cfu di esami di due è la coppia che abbiamo costruito prima, perché è l'indicizio condizionario cfu che abbiamo costruito prima. Questa coppia di valori, la assegno, vedete che ho fatto un'associazione con una virgola a sinistra, separo questa coppia nei due, perché potrei chiamarla valore e poi chiamare valore di 0 e valore di 1, tanto vale dargli già un nome a due variabili distinte. dimmi. Perché esame 0, 0? Esame, allora esami, esami è la lista. Sto iterando su questa lista quindi ogni esame è, se no il limite sarebbe i, 0, no? Io cerco sempre di usare il plurale quando riferisco alle liste e il singolare quando mi riferisco agli elementi di queste liste qua. Scusate, qua, di questo stavo parlando. Ok. Allora, se l'esame era obbligatorio devo aumentare i crediti obbligatori, se l'esame non era obbligatorio devo aumentare i crediti non obbligatori. In ogni caso devo aumentare la media pesata, la somma dei voti pesati. Quindi, la somma dei voti pesati, l'incremento di una quantità pari al voto che ha preso lui per il numero di crediti del corso. E il voto che ha preso lui dov'è? Il voto che ha preso lui è nella 0, 1, 2, 3, nella quarta colonna. Quindi esame di 4, che è il voto, per CFU esame. Poi mi chiedo se è obbligatorio, if obbligatorio uguale 1, allora vado a incrementare i CFU obbligatori della quantità pari ai CFU di questo esame. Altrimenti non era obbligatorio, allora vado a aumentare i CFU non obbligatori della quantità di CFU di questo esame. scusate, qui ci sono nuovi colleghi che hanno problemi con crownlapse, poco per volta risolviamo tutti prima dell'esame. Ok? Quindi alla fine in questo cicloforo sto solamente per gli studenti che mi hai chiesto tu, facendo questi calcoli e alla fine restituisco CFU obbligatori, ok? CFU obbligatori e poi dovrei restituirti anche la media dei voti, ma la media dei voti sarà cosa? La somma dei voti pesati diviso la somma ai CFU. Maledizione, mi sono dimenticato di fare la somma ai CFU. Vabbè, raggiungiamo. Somma voti pesati, allora quando vado a sommare i voti pesati, somma al CFU, lo incremento di CFU esame. Ah, sono pirla, non mi serve, scusatemi. Faccio la somma degli altri due e ce l'ho. Questo qua dovrebbe essere un tre, non un quattro, hai ragione. Zero, uno, due, tre, ho contato fino a tre, ma ho messo quattro. Questo dicevi? Grazie, sì, certo. Allora, dicevo, la media come lo ottengo? Come la somma dei voti pesati diviso i crediti totali che per noi sono la somma di quelli obbligatori più quelli non obbligatori. dimmi. Esami di, allora qui voglio prendere il codice dell'esame. Il codice dell'esame è 0, 1, 2. Cosa ho scritto io? Esame, certo, grazie. Sì, qui è esame, non è esami, proviamo a vedere come ci saremmo accorti se non ci fosse stato lui. Fatemi fare un rame. Print, calcola, lo studente S, sappiamo che c'è, lo mettiamo dentro a mano, qui devo fare esame uguale, cf uguale, se avessi provato a eseguire questa funzione mi avrebbe detto type error anishable type list, a volte saltano fuori degli errori che uno dice ma sei ubriacato, che c'entra sta roba qua? Alla riga 41, che è proprio quella incriminata. Cerchiamo di regolificare, il messaggio di errore mi dice guarda il problema ce l'hai in questo accesso qua e stai cercando di indicizzare cfu con un valore che è di tipo, di un tipo non permesso, non è hashable, quindi non è un tipo immutabile, perché è una lista. Ma come è una lista? Io mi immaginavo che fosse una stringa e allora mi accorgo che ho passato la lista esami anziché il valore esame. Quindi in questo caso siamo fortunati che il programma si sarebbe bloccato con un messaggio di errore non facilissimo da decodificare ma alla fine... fate sempre molta attenzione quando trovate un errore a guardare la riga dove c'è l'errore e non dove voi pensate che possa essere l'errore, perché a volte l'errore in un punto il compilatore te lo sta dicendo però noi pensiamo un'altra cosa magari più complicata perché questa era proprio solo una svista di scrittura e infatti quando lui mi ha detto guarda quella riga del 41 io la prima cosa che ho pensato è che ho sbagliato l'indice perché non ho ascoltato l'Ui e non ho ascoltato il compilatore e ho sbagliato due volte. Ok? Quindi nel momento in cui si fanno errori e si fanno sempre bisogna veramente essere molto cauti e molto umili dicendo vediamo un attimo passo per passo, non diamo mai per scontato che quello che ho scritto è giusto e quindi l'errore è qualcosa di diverso. Allora, se facciamo così, lui mi dice che questo signore ha 20,30, 24,6 che ovviamente non quadra con la media perché noi abbiamo cambiato, abbiamo aggiunto un dato sul file quindi ovviamente questi dati non torneranno mai. Allora, siamo quasi a posto, dobbiamo ancora sempre risolvere quel problema di prima. Allora, dato questo studente nella funzione calcola, cosa succede se un esame compare più volte? Succede che purtroppo lo considero più volte. Come posso evitarlo? Allora, adesso dobbiamo fare la domanda. È più facile per me evitare di sommarlo qua nella funzione calcola oppure è più facile cancellarlo dalla lista nella funzione leggi esami. Allora, una cosa che sarebbe facile da fare nella funzione calcola è quella di tenere traccia degli esami che ho già messo, dei codici. Se io mi faccio un piccolo set qui con i codici degli esami che ho già messo, mi accorgo subito se mi arriva un altro esame che c'era già. Tanto lo studente è fisso, lo studente è lui. Devo solo verificare che nel iterare sugli esami non mi becchi un'altra volta lo stesso codice. Quindi è facile accorgermene. Quindi posso farmi un settino, un piccolo insieme di codici vuoto. dopodiché quando trovo un esame e faccio la somma eccetera eccetera lo metto nell'insieme. Set codici punto add del codice dell'esame che è esame di 2. Quindi qui dentro questo ciclo ho questa cosa codici che si incrementa, incrementa, diciamo così, si aggiunge e via, via raccoglie il codice degli esami che trovo. E quindi è facile a questo punto prima di fare i conti, prima di andare a aggiornare le tre variabili, controllare se questo codice sia o non sia già nel set. Vabbè, mettiamolo anche questo. Quindi io estraggo i dati di questo esame, potrei anche mettere l'altro sotto, anche questo sotto. Quindi io l'esame lo considero solo se è di questo studente e di un codice che non ho mai visto. Adesso questo non funziona ancora benissimo perché mi conta il primo codice che vede ma non in quelli successivi. Mentre in realtà noi abbiamo le cose in ordine crescente quindi dovrei contare l'ultimo e non il primo. Giusto? Vabbè, allora facciamo l'interazione al contrario. Abbiamo sbagliato l'ordinamento. L'ordinamento più furbo non è per data crescente ma per data decrescente. Quindi il primo che vedo è quello buono, quelli successivi li devo ignorare. Non ce l'avamo pensato perché non avevamo ancora pensato a come gestire il problema. Però quindi li mette in ordine decrescente di data. e quindi a questa fase qua attenzione ci possono essere copie duplicate so cosa rispondere a me stesso in questo commento e dico il primo che incontri nella lista è quello buono quelli successivi sono da ignorare. Che è quello che facciamo col set questa frase qua quelli successivi sono da ignorare ecco l'istituzione qua. il codice è una variabile locale quindi quando richiamo questa funzione con un studente nuovo riparte da zero riparte di nuovo qua ad accumularsi i codici degli esami sostenuti da quell'altro studente. siamo quasi alla fine direi ci manca solo più diciamo così in questo scampolo di main che abbiamo costruito sotto estrarre l'elenco degli studenti perché poi devo iterare uno studente per volta. allora l'elenco degli studenti come lo ottengo? L'ottengo sempre andando a spulciare gli esami e andando a cercare il primo campo quando è diverso. Quindi io quello che posso fare è costruirmi una piccola lista che chiamo studenti allora la prima cosa che posso fare è prendere la tabella esami ed estrarre solo la prima colonna quindi una lista in cui vado a prendere il campo esami di zero esame di zero iterare su esami aggiungo esami di zero però poi è duplicata tante volte e quindi bisognerebbe evitare di inserirla due volte. Allora io lo faccio per gradi prendo, uso se me lo permettete una comprehension che mi costruisca una nuova lista che contenga solamente esame di zero for esame in esami ricordiamo che la comprehension è la stessa cosa che fare un ciclo con l'append dentro for esame in esami append di esame di zero quello che abbiamo detto a parole prima lo sono scritto in forma compatta questo ha dei duplicati perché ha esattamente tanti elementi quanto aveva la lista degli esami per buttare via i duplicati c'è il mio amico set che essendo questi insiemi stringhe sono tranquillamente diciamo inseribili come come elementi di un insieme e quindi se prendo la lista e creo un insieme partendo dagli elementi della lista e lei mi creerà un insieme con gli elementi unici dopodiché l'operazione di creare insieme è un'operazione ottima per eliminare i duplicati ma mi elimina anche l'ordine allora per avere questa lista in un ordine per avere dei dati in un ordine diciamo ragionevole faccio in fretta a chiamare sorted su questo set sorted cosa fa? prende il set costruisce una lista sorted costruisce sempre una lista perché se si parla di ordine si parla di liste ricordiamo c'era questo oramai mi dà una lista ordinata con gli elementi dell'insieme i quali cos'erano? erano la versione unica degli elementi della lista i quali erano che cosa? erano il primo campo degli esami cioè le matricole degli studenti poi volendo si può scrivere su cinque righe ma a questo punto nel corso possiamo anche permetterci di far usare delle operazioni un po' più più aggregate e non andare a prendere un elemento per volta a vedere se c'è o se non c'è con i cicli for come faremmo in c e a questo punto veramente for studenti in studenti studenti è la matricola chiaramente io posso chiamare la mia funzione calcola con questo studente su cui sto iterando e questa calcola mi restituisce tre cose noi abbiamo detto CFU obbligatori CFU non obbligatori e la media cominciamo a stampare di brutto 30 che cosa lo studente CFU obbligatori CFU obbligatori media vediamo cosa esce S01 20 15 29 virgola rotti vediamo un po' se l'S01 ci piace così S01 aveva un 28 che è da prendere il 28 anziché il 20 quindi aveva un 28 questo non conta un 30 e un 30 questo 20 abbiamo detto che non conta perché è stato rimpiazzato da 28 quindi abbiamo due 30 e un 28 quindi giustamente 28 due terzi no 29 14 29 ah no perché poi scusate sono pesati per i crediti non posso fare la media aritmetica però ci sta insomma da 28 30 30 29 1 SCZ è un esempio da 15 crediti quindi pesa più degli altri 20 15 20 crediti obbligatori 15 facoltativi che è appunto il nostro SCZ studente 2 26 ne diamo un attimo studente 2 ha questi tre esami AM1 e in 2 SCA AM1 10 crediti AM2 10 crediti 10 più 10 20 perché sono obbligatori questo 20 è giusto SCA sono 6 crediti non obbligatori e questo 6 qua dicono che lui abbia la media del 30 perché ha tutti 30 ok se uno di questi fosse un 30 lode non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo nel file di esempio un 30 lode vediamo se siamo capaci a gestirlo bene effettivamente la media mi supera il valore di 30 allora ho i dati mi manca solamente di stamparli in modo ordinato quindi non faccio una print così brutale ma vado all'istituto a chiedermi se è laureabile è laureabile ricordiamoci il criterio qual era se CFU totali sono almeno 30 e CFU obbligatori sono almeno 10 vabbè facile da scrivere if CFU obbligatori più CFU non obbligatori sono almeno 30 maggiore o uguale 30 and CFU obbligatori sono almeno 10 allora è laureabile quindi farò questa print fatta bene dicendo allora F-string in cui ci metto dentro lo studente è laureabile con CFU obbligatori crediti obbligatori e CFU non obbligatori non obbligatori punto la media uguale la variabile media la stampiamo con due cifre decimali chiude virgolette quindi quindi in questo caso dovrei stampare solamente S1 perché l'altro non è laureabile è laureabile con 20 credi obbligatori e 15 non obbligatori la media perché ha dimenticato di indicare l'F e lui me lo mette in notazione scientifica 2,9 per 10 alla 1 fa sempre 29 però mettiamo il specificatore di formato così me lo stampa come floating point e non come notazione esponenziale e l'S2 dove è finito? l'S2 non è laureabile quindi devo mettergli una print diversa nel ramo S la print sarà uguale ma gli dirò che non è laureabile S2 non è laureabile con 20 crediti obbligatori e 6 non obbligatori quegli obbligatori lui li avrebbe ma il 30 totali non li ha ancora invece nonostante abbia una media esagerata non gli diamo la laurea ok ok se non ci sono domande questo qua lo consideriamo chiuso